Vai, Tettetti, va. Gianni non sai fare il tuo lavoro. Adesso passiamo ad intervistare un'alunna della nostra scuola che ha aderito al programma di scambi culturali con la Cina. Il nostro liceo, oltre a promuovere certificazioni e... Dove farlo? No. Anche questa terza edizione del Tg Poliziano si è conclusa. Un saluto da Rossella Torlusio... ...e da Rossella Torlusio e da tutta la Tg. Che cazzo mi fai? E vai, non mi appassionano le cani! Salve, ci troviamo all'interno dei licei Poliziani con due nomi di questa scuola, Ilaria Vinsuti e Leonardo Beati. Ilaria, ti chiedo subito... Ilaria, ti chiedo subito... Ritieni che sia stato utile il govern... Perché non ho capito più di... ...che infatti ci chiedevano molte domande, va bene. Buonasera a tutti e benvenuti alla nuova edizione del Tg dell'Icei Poliziani. Da Ciopotami, Gabriella Carina e Alessio Pardazzi. Oggi... Andremo a parlare dell'autogestione, un'attività scolastica organizzata... Continuate a seguirci e se avete notizie da segnalarci, iscrivete alla mail polizianonews.gmail.com Salve a tutti, siamo qua per intervistare tre ragazzi che hanno preso parte al viaggio di istruzioni in Irlanda il 22 marzo... Durante questa città, cioè questo viaggio di istruzioni in Irlanda, abbiamo avuto delle... Diciamo dei... Che ne cazzo posso dire? Dele complicati! Dele complicati! Ma ma si può dire? Non c'è capire! Un'esperienza da rifare che... ...ci ha lasciato molto anche dal punto di vista sentimentale. Sicuramente la cultura irlandese è molto differente da quella italiana... Diciamo che in Irlanda si usa molto la patata... La cultura irlandese sicuramente è molto differente da quella italiana... E' una cultura molto più ferrea... Possiamo dire che, appunto, secondo me tollerano poco gli stranieri... Della differenza appunto d'Italia, anche se in Italia non è che si tolera molto gli stranieri... La cultura irlandese è totalmente diversa appunto dalla cultura italiana... Anche per esempio nei cibi, la cultura culinaria è molto... Sì! Salve a tutti! Oggi si... Salve a tutti! Oggi siete qui per il TG con il... Madonna! Salve a tutti! Salve a tutti! Oggi siete qui per il TG del Liceo Poliziale... Con Samuele Peruzzi e Carina Suotano... Vi presentiamo ora il gruppo rock dei Rossi... Camilla Salve... Ehm... Ti sei! Ti sei! TG Poliziale non finisce qui! Grazie per averci seguito! Buono!